Brosco, che cosa sta succedendo in questo periodo da Pescara, dall'alto della tua esperienza? Come ho già detto, sono periodi, questo periodo sta durando un po' tanto, dobbiamo essere bravi a invertire subito la rotta e una partita come quella di Crotone ci può dare la spinta emotiva per riuscire a reagire e finalmente uscire da questa situazione. Già si sono visti i passi in avanti contro il Latina, a me la squadra è piaciuta tanto, ovviamente dal settantesimo in poi c'è stato un calo mentale che non dobbiamo riuscire a migliorare e secondo me se continuiamo su questa strada non usciremo al più presto. Ti spieghi perché però questo mese di dicembre con risultati così brutti rispetto a come avevate abituato i tifosi del Pescara nei primi tre? Nell'arco di un campionato ci sta di avere un periodo negativo, è chiaro che quelli davanti vanno veramente forti e sicuramente anche loro avranno un calo, dovremmo essere bravi noi a rientrare subito in corsa e cercare di porci degli obiettivi e in questo caso almeno cercare di porci l'obiettivo di raggiungere il Crotone e andare a fare risultati a Crotone. Ecco quindi vincere a Crotone per provare a riaprire il secondo posto deve essere questo l'obiettivo? Certo, sempre guardare avanti e mai guardarsi indietro perché se guardiamo cosa abbiamo dietro rischiamo di abbassare l'intensità, di non stare sul pezzo e quindi poi magari rischiamo anche di arrivare sotto e questo non deve capitare assolutamente. Prova ad andare un po' sul tecnico, nei primi mesi la difesa del Pescara era blindata, non si passava mai, poi nell'ultimo mese avete subito tantissimo, secondo te è una questione anche tecnica oltre che mentale? No, sicuramente è una questione mentale e tattica, nel senso che noi giochiamo uomo contro uomo dietro e se non c'è una grossa pressione di tutta la squadra, la pressione della palla ovviamente c'è molta più palla libera e quindi per noi difensori abbiamo delle palle più difficili da leggere, come è successo ad Avellino e in altre situazioni, ma sono sicuro, nell'ultima partita sono molto fiducioso perché la palla è sempre stata coperta e noi ci siamo giocati il due contro due tranquillamente e ovviamente sono arrivati due gol ma non sono stati due gol presi per difesa schierata sbagliata ma sono stati episodi, dobbiamo portarci episodi dalla nostra parte. Ti chiedo un'ultima cosa, perché ne parlavamo anche a microfoni spenti, tu sei abituato a vedere delle situazioni difficili in squadra, parlavamo del caso Ninkovic con il rigore di qualche anno fa ad Ascoli, come la valuti questa situazione di Facundo, Lescano? Sicuramente là erano situazioni diverse, ovviamente questa in confronto non è niente perché quando stavo a Ascoli, insomma, Ninkovic da Cruz, avevamo parecchie teste calde, Facundo è un bravissimo ragazzo, passava soltanto un periodo che stava magari giù fisicamente, adesso deve rientrare con la testa giusta a darci una mano. Mi dai una chiave tecnica, chiudiamo, della partita di Crotone? Sicuramente loro sono un'ottima squadra, hanno degli esterni forti, dovremmo stare attenti sulle fasce e cercare di essere aggressivi per cercare di far vedere che noi vogliamo portare a casa la partita. A proposito, il primo brosco, quello importante, si è visto a Pescara nell'anno della promozione. Il brosco vuole chiudere a Pescara? Sicuramente l'obiettivo mio è rimanere qua più a lungo possibile. Poi ovviamente gli eventi non dipendono soltanto da noi, ma dipendono anche da altri. Ti piacerebbe? Sì, mi piacerebbe. Grazie. Grazie.